Da Torino vi parla Sandro Amerigo, ma questa volta non per narrare le gesta dei campioni Granata, ma per vederli uscire per sempre dalla scena terrena. Ora delizieranno gli angeli con le loro giocate. Una folla oceanica si riversata per le vie della città. Nessuno vuol mancare all'ultima sfilata dei campioni Granata. Anche se questa è una terribile sfilata, che nessuno di noi avrebbe mai voluto vedere. Questa mattina i ragazzi erano a Palazzo Madama per permettere alla folla di vederli un'ultima volta. Ogni tanto lo straziante urlo di qualche madre o moglie squarciava il doloroso silenzio. In un angolo un ragazzo piangeva, vicino a sé la moglie li teneva la mano. Era Tomà, l'unico superstite della squadra. Non aveva potuto partire con i ragazzi per un infortunio. Ora è l'unico testimone di un sogno che è volato in cielo per sempre. Tomà ha raccontato a un collega che quando arrivò a Torino per la prima volta era l'ora di pranzo. Si recò quindi in un ristorante. Lì riconobbe Valentino Mazzola che era seduto a tavola con il figliolo Sandrino. Allora Tomà si avvicinò e si presentò. «Piacere capitano, sono Tomà, un nuovo acquisto». Mazzola si alzò in piedi e lo abbracciò, poi disse «Benvenuto», quindi gli offrì il pranzo. Questi ragazzi erano così, come una grande famiglia. Adesso Tomà piange i suoi compagni e non si rassegna l'idea che il presente si è trasformato in passato, in un modo così atroce. La madre di Fadini urla nel suo dialetto «Fatemelo vedere, voglio vederlo, voglio vederlo». La scena è straziante, è dura, è terribile sopravvivere ad un figlio. A questi ragazzi tutti gli italiani devono qualcosa. Ci hanno regalato domeniche di gioia per il loro magnifico calcio. Hanno ridato onore e gloria alla nostra nazione. Sì, perché il conflitto bellico ci aveva reso in visi al resto del mondo. Ma loro fecero capire che l'Italia era uguale al loro gioco. Bella e maestosa, e poco aveva a che fare con i conflitti bellici. Le loro gesta sono arrivate addirittura al troceano, dove adesso grande lo sgomento. Una volta era la tromba di Oreste Bormida a suonare la carica. Adesso sono le campane. E non a festa, a salutare i nostri campioni. Barassi, dall'interno di Palazzo Madama, pronuncia queste parole. Il Torino è proclamato campione d'Italia per la quinta volta consecutiva. Il governo rappresentato dal sottosegretario Giulio Andreotti. Egli si è recato nella Camera Ardente, poi nella sede del Torino Calcio e nella sede della stampa Subalpina. A portare il cordoglio di tutto il mondo politico. Anche il Presidente della Repubblica ha telegrafato al prefetto di Torino quanto segue. Nella prendere in mani Sciagura Superga, penso con intima commozione e cordoglio a tante famiglie così atrocemente colpite. In particolare alla cittadinanza torinese, che andava orgogliosa dei suoi campioni. Prego di voler trasmettere le mie personali condoglianze. Persino il Santo Padre non ha voluto far mancare la sua vicinanza, mandando un telegramma al Cardinale di Torino, pregandolo di farsi interprete del suo dolore. Per questo è in mani Sciagura. Ora le 31 bare sono adagiate sui camion messi a disposizione dalla Fiat. L'avvocato Gianni Agnelli fu uno dei primi a salire a Superga e ne rimase molto turbato. Lo sport e la rivalità non c'entrano nulla con questi drammi. Infatti tutta Italia è presente oggi qui a Torino e chi non c'è fisicamente c'è con il cuore. Le campane, le tristi campane fanno da colonna sonora l'ultimo giro di campo dei ragazzi che d'ora in poi giocheranno tra le stelle. A noi non ci resta che ricordarli. Bacicaluppo, Aldo Ballarini, Martelli, Grezar, Rigamonti, Castigliano, Loic, Nenti, Gabetto, Mazzola, Ossola, Dino Ballarini, Buongiorni, Fadini, Grava, Oberto, Schubert, Maroso, allenatore, Herbstay. Grazie a tutti.